Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi con la nuova funzionalità di Windows 11 posso collegare il mio telefono al PC direttamente grazie al nuovo sistema operativo e posso anche controllarlo da lontano quindi quello che mi dice è scaricarmi questa applicazione quindi voi basta che scrivete www.h.ms.yourpc e vi porterà direttamente su Play Store una volta scaricata l'applicazione io adesso sto con il mio telefono, collega il telefono e il PC Mentre usi l'app, ok, associa con un codice QR ok eccolo qua ora devo fare la scansione del codice ok sto associando perfetto continua consenti, 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 sms, cellulare poi vediamo un po' cosa c'è continua fine continua fine, inizio, ok, veniamo ecco il mio telefono il Redmi Note 8 la batteria sta a 86% consenti, sì ok, siamo adesso collegati telefono e PC chiudo tutto ok, vediamo ok, questi sono i messaggi via sms notifiche foto chiamate volume attivato lettore audio off no, aspetta devo vedere se posso sì, 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 apri sto facendo adesso da telefono sezioni telefono non consentite adesso metto consenti l'accesso alle notifiche ok, poi uscirà un segnale di pericolo che vi dirà che tutte le applicazioni leggeranno gli sms i messaggi e tutto io adesso faccio annulla perché non mi serve collegare il telefono a PC ok bene, abbiamo fatto abbiamo collegato il nostro telefono a PC ok, sì abbiamo finito abbiamo collegato con successo il telefono a Windows 11 detto questo ragazzi grazie a tutti per questa visione iscrivetevi al canale lasciate anche un like seguitemi anche su Twitch che ci tengo moltissimo e noi ci vediamo ad un prossimo video quindi ciao grazie a tutti